Amici buongiorno, buon sabato, scusatemi oggi niente caffè con Alberto, vedete qua sono con l'amica con la Vale, oggi niente caffè con Alberto perché siamo in giro per la campagna elettorale quindi perdonatemi non riesco ad essere in diretta, torniamo appena possibile, appena finita questa campagna, torniamo a fare il nostro caffè del sabato mattina, intanto vi mando un grande abbraccio un saluto a tutti quanti, buona giornata, ciao a tutti, mi raccomando, voto Zaia e scrivo Villanova Ciao a tutti